Gli Opliti, i guerrieri corazzati della Grecia antica. Nell'Evo antico, la Grecia classica era un mosaico di città-stato indipendenti, ognuna con la propria cultura e tradizione militare. Tra le figure più emblematiche di questo periodo storico vi erano gli Opliti, soldati di fanteria pesante che rappresentavano la spina dorsale degli eserciti greci. Questi guerrieri corazzati, noti per la loro disciplina e tenacia in battaglia, ebbero un ruolo fondamentale nel plasmare la storia e la società della Grecia antica. Le armi e l'armatura, l'Oplita era un esempio di potenza e tecnologia militare. La sua armatura, chiamata panoplia, era composta da diversi elementi, elmo, proteggeva la testa da colpi e fendenti. Erano diffusi diversi tipi di elmi, come il corinzio, lo spartano e il calcidico. Corazza, proteggeva il busto da frecce e free lens. Le corazze potevano essere di bronzo, cuoio o lino rinforzato. Schinieri, proteggevano le gambe da colpi di taglio e di punta. Scudo, lo scudo Oplon, di grandi dimensioni e realizzato in legno e bronzo, era fondamentale per la difesa e la tattica di combattimento. Lancia, arma principale dell'Oplita. La Dori era una lancia lunga e robusta utilizzata per sfondare le linee nemiche. Spada, arma secondaria, la spada era usata per il combattimento corpo a corpo. La Falange, la tattica di combattimento Oplitica si basava sulla Falange, una formazione compatta e disciplinata di soldati. La Falange avanzava in modo serrato, con gli scudi uniti a formare un muro impenetrabile e le free lens puntate verso il nemico. La forza d'urto della Falange era devastante e poteva travolgere le linee nemiche. Addestramento e disciplina. Per diventare un'Oplita era necessario un duro addestramento che iniziava fin dalla giovinezza. I soldati imparavano a maneggiare le armi, a combattere in formazione e a obbedire agli ordini. La disciplina era fondamentale per il successo della Falange, in quanto richiedeva ai soldati di mantenere la posizione e di non cedere al panico nel caos della battaglia. Ruolo nella società, gli Opliti non erano solo soldati, ma anche cittadini attivi che partecipavano alla vita politica e sociale della propria città-stato. Il servizio militare era considerato un dovere civico e un onore. Gli Opliti provenivano da diverse classi sociali, ma generalmente erano i cittadini più abbienti a potersi permettere l'acquisto dell'armatura costosa. Eredità, gli Opliti ebbero un ruolo determinante nella storia della Grecia antica. Le loro vittorie in battaglie come Maratona e Salamina permisero ai Greci di respingere le invasioni persiane e di preservare la propria cultura. L'influenza della fanteria Oplitica si estesse anche ad altre civiltà, come quella romana, che adottarono tattiche e armature simili. Conclusione, gli Opliti rappresentarono un elemento fondamentale della civiltà greca antica. Il loro coraggio, la loro disciplina e la loro abilità in battaglia permisero alle città stato greche di prosperare e di lasciare un segno indelebile nella storia. La figura dell'Oplita rimane ancora oggi un simbolo di forza, di onore e di dedizione alla patria. Battaglie storiche combattute dagli Opliti, la battaglia di Maratona 490 anno corrente, Ateniesi e Platesi contro Persiani. Vittoria greca che fermò l'invasione persiana. Battaglia di Lautra 371 a Punto C, Tebani contro Spartani. Vittoria Tebana che pose fine all'egemonia spartana. Battaglia di Mantinea 362 a Punto C, Tebani contro Spartani alleati. Vittoria Tebana, ma morte di Epaminonda. Battaglia di Granico 334 anno corrente, Macedoni di Alessandro Magno contro Persiani. Vittoria Macedone che aprì la conquista dell'Impero Persiano. Battaglia di Pidna 168 anno corrente, Romani contro Macedoni. Vittoria Romana che pose fine al regno di Macedonia. Tattiche di combattimento Oplitiche, Falange Oplitica, formazione compatta di Opliti con Scudi e Freelance che avanzava all'unisono. Oplomachia, duello tra Opliti con Freelance e Spade. Manovre di accerchiamento, per sfruttare la superiorità numerica e la forza d'urto della Falange. Uso del terreno, per ottenere un vantaggio tattico. Evoluzione dell'armatura Oplitica. VIII secolo anno corrente. Armatura pesante in bronzo, con corazza. Schinieri, elmo e scudo VII secolo a Punto C. Introduzione della corazza a corazza e dell'elmo corinzio. VI secolo a Punto C. Diffusione dell'elmo attico e dell'apterige strisce di cuoio per proteggere le cosce. V secolo anno corrente. Armatura più leggera e maneggevole, con l'introduzione della corazza di lino e dell'elmo calcidico. Ruolo degli Opliti nella religione e nella mitologia greca. Guerrieri, difensori della città e della patria. Simboli di forza e coraggio, associati ad eroi come Omero e Achille. Offerte votive, armature oplitiche dedicate agli dèi. Fonti storiche e letterarie, Omero, Iliade e Odissea descrivono le battaglie e le tattiche oplitiche. Tucidide, la guerra del Peloponneso fornisce informazioni sulla guerra oplitica. Senofonte, Anabasi descrive la ritirata dei 10.000 mercenari greci. Plutarco, vite parallele descrive le battaglie e i condottieri oplitici. Vasi dipinti, raffigurano scene di battaglie e opliti in armatura. Reperti archeologici, armature, armi e altri oggetti oplitici. Oltre a queste informazioni, è importante ricordare che le tattiche oplitiche variavano a seconda delle città-stato e del periodo storico. L'affanteria oplitica ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della Grecia antica, contribuendo a determinare l'esito di guerre e battaglie che hanno plasmato il corso della civiltà greca.